La sagoma di questo tavolo si ispira all'onda sonora della musica di M2O. La radio è una struttura complessa, così come il tavolo, al cui interno deve convivere la tecnologia più all'avanguardia. Per questo è stato pensato come un'opera di ingegneria avanzata. La radio è un ambiente intimo, è immaginazione. L'onda si espande nelle tre dimensioni dello spazio, fino a diventare un oggetto fluido. Cioè, deve essere come una caverna. Vorrei chiamarlo The Cave. Mi piacerebbe che fosse un po' dark. A livello acustico impeccabile, anche a livello tecnologico. The Cave è un pianeta roccioso appena scoperto. Lo stesso rivestimento è una novità assoluta in fatto di design. The Cave è un racconto. Al suo interno, la filosofia del suono convive con gli aspetti funzionali. La sua forma sagomata si incastra perfettamente nello spazio. È come se una navicella spaziale atterrassi in via Massena. Serve un buon pilota, un buon equipaggio e una colonna sonora all'altezza. M2O DJ Station SITURO 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 Grazie a tutti.